Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e bentornati sul mio canale. In questo video andrò a stilare una classifica personalissima dei 13 videogiochi dei quali sto ancora aspettando un sequel. Titoli estremamente validi che ho adorato alla loro uscita ma che in tanti anni non sono mai più stati presi in considerazione dalle case di sviluppo per farne uscire un seguito. E' bene precisare che in questa classifica saranno presi in considerazione dei videogiochi che ancora non hanno un sequel ma che sono stati abbandonati da più di 10 anni. In altre parole non saranno presenti giochi come Bioshock Infinite per dirne uno, molto semplicemente perché se il gioco è ancora molto recente ovviamente è ancora molto probabile che ne potremo vedere un seguito. Ricordandovi che ogni opinione espresso in questo video è strettamente personale direi che possiamo iniziare con questa classifica iniziando dalla numero 13. In tredicesima posizione Commander Ken. Prima di inventare il genere degli sparatutto in prima persona con Wolfenstein 3D l'AID Software sviluppava dei videogiochi platform che dovevano essere la risposta del personal computer a Super Mario della Nintendo. E sebbene Ken non abbia mai raggiunto la popolarità dell'idraulico italiano più famoso del mondo il videogioco riesce ad essere tuttora estremamente godibile. Assolutamente da riprendere. In dodicesima posizione Earthworm Jim. Il discorso è più o meno simile a Commander Ken ma Earthworm Jim ha quel qualcosa di demenziale in più che secondo me lo renderebbe più adatto al mercato odierno. Già solamente riguardando la rimesterizzazione per Xbox 360 si ha l'impressione di avere davanti un videogioco indie degli ultimi anni. Quindi figuratevi come potrebbe apparire moderno se ne sviluppano uno da zero. In undicesima posizione No One Lives Forever. E chi ha detto che gli sparatutto sono tutti uguali? Uno 007 in gonnella in un gioco che sprezza anni 60 da tutti i pori. Il carisma eccezionale della protagonista accompagnato ad un level design estremamente vario e valido rendono No One Lives Forever uno degli sparatutto in prima persona più atipici mai creati e che potrebbe rappresentare una validissima alternativa anche oggi nel mercato odierno. In decima posizione Murder or Death Kill. Sono conscio che i platform in tre dimensioni al giorno d'oggi sono estremamente diminuiti ma c'è anche da dire che spesso probabilmente si punta sulle meccaniche di gioco sbagliate. MDK era estremamente innovativo all'epoca, forse addirittura troppo, con l'ambizione di rappresentare tutta l'area di gioco contemporaneamente. Questo permetteva al nostro personaggio che aveva un fucile da cecchino montato sulla testa di colpire qualsiasi nemico anche se si trova ad una distanza abissale. Con la tecnologia moderna credo fermamente che questa formula di gioco possa risultare ancora più azzeccata. In una posizione Age of Empires 2. Dai su, credo che questo non abbia bisogno di presentazioni. La strategia in tempo reale, a sfondo storico come non l'abbiamo mai più vista, riproposta in quella maniera. L'edizione in alta definizione aggiunge poco al titolo che, dal mio punto di vista, ha proprio bisogno di essere ripreso da zero. In ottava posizione, Planescape Torment. E qui ragazzi siamo al top del genere dei GDR isometrici di fine anni 90. Ciò che fa da filo conduttore al gioco è che il personaggio principale non può morire. O meglio, ogni volta che muore si risveglia nel mortuario. È un po' come i falò di Dark Souls potremmo dire, però pensato dieci anni prima. Planescape Torment offre uno degli universi di gioco più intriganti mai realizzati ed è davvero un peccato che in tutti questi anni sia rimasta una perla unica. In settima posizione, Warcraft. Sì, ok, lo so che Blizzard supporta fino all'ultimo sangue World of Warcraft, ma quello è un mortg. Io dico Warcraft, il gioco strategico, dove è finito? Rifateci vivere l'epica guerra tra orchi umani, vi scongiuro. L'epicità che da sempre ha caratterizzato Warcraft non può morire. E io mi associo ai milioni di fan che, da anni, chiedono a gran voce un sequel di questo gioco. In sesta posizione, Arcanum. Un gioco di ruolo isometrico steampunk nel quale il mondo è diviso tra tecnologia e magia. Più che un sequel diretto, mi piacerebbe che sviluppassero un Arcanum 2 in prima persona, in stile Dishonored. Innanzitutto perché si presterebbe tantissimo, proprio come stile. E poi perché mi piacerebbe vedere, per Arcanum, la stessa evoluzione che ci fu nel brand di Fallout, dal 2 al 3. Potrebbe sembrare troppo ambiziosa come speranza, però, sapete com'è, la speranza è l'ultima a morire. In quinta posizione, Vampire The Masquerade Bloodlines. Un videogioco che è un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati, con una community attivissima ancora oggi, ad oltre dieci anni dall'uscita. Personalmente credo che siano solamente due i giochi di ruolo che abbiano uno stampo metropolitano e che riescano così bene ad ibridare gli FPS ai giochi di ruolo. Deus Ex e Vampire. Di Deus Ex, per fortuna, stanno uscendo dai sequel. E di Vampire? Dove sono? In quarta posizione, Chrono Cross. A me tipicamente non piacciono i giochi di ruolo di stampo giapponesi, eppure ho adorato Chrono Cross. A partire dallo stile estetico, ragazzi, già solamente vedere come gira Chrono Cross su PlayStation 1 credo che sia prodigioso. Un eccellente esempio di ottimizzazione delle proprie risorse. I personaggi, le loro storie, l'ambientazione, i due mondi di gioco, i viaggi nel tempo. Beh, ragazzi, tutto questo e molto altro, tutto insieme, rendono Chrono Cross un titolo veramente imperdibile, del quale personalmente sto ancora aspettando un sequel. In terza posizione, Manhunt. E ne parlo spesso di Manhunt e dico fondamentalmente sempre le stesse cose. Però non c'è molto altro da dire. Manhunt è un videogioco stealth in cui la violenza è prevista e portata all'estremo, in quanto il nostro antagonista è un regista che sta girando un film splatter. E per rendere più realistiche le scene, non ha attori, ma è il protagonista del gioco che per avere salva la vita deve uccidere chi gli si para davanti. Un gioco sicuramente molto controverso, ma che se vi devo dire la verità, io ho apprezzato davvero tantissimo. In seconda posizione, Commandos. Mamma mia signori, Commandos. Un gioco strategico in tempo reale in cui si controlla un manipolo di soldati, ognuno altamente specializzato. Ogni missione di infiltrazione mira chiaramente a sfruttare al meglio le abilità dei vari personaggi sotto il nostro controllo. E la cosa che mi dispiace più di tutto è che non è solo Commandos che è morto come brand, ma è l'intero genere a cui appartiene che praticamente non si vede più oggi sul mercato. Anche lo stesso Desperados, per dirne uno, non si vede più da un sacco di tempo. E tutto questo, ragazzi, secondo me, è davvero un peccato. E questo, ragazzi, è tutto. Io come sempre vi ringrazio l'attenzione e vi invito a lasciarmi un commento qua sotto nel quale mi dite i vostri giochi dei quali voi aspettate ancora un sequel. Ed io, beh, a questo punto vi lascio alla prima posizione. Io credo fermamente che questa prima posizione sia talmente scontata che non abbia bisogno di dascalie. Quindi, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao. There are three things we all have to do in life. One, dream. Two, act and try to achieve it. And three, succeed or dare a true. One, dream. Grazie a tutti.